Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 1. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, attualmente incolto, di metri quadri 350. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 5600 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 2. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, attualmente incolto, di metri quadri 50. Sito in Simeri Cricchi, Simeri Cricchi. Prezzo base, 500 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 3. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, attualmente incolto, di metri quadri 268. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 2680 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, avanti al Gd presso il Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 4. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, di metri quadri 211. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 4220 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, avanti al Gd presso il Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 5. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, di metri quadri 160. Sito in Simeri Cricchi, Simeri Cricchi. Prezzo base, 2720 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, avanti al Gd presso il Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 6. Reliquato per frazionamento di particella di maggiore consistenza, attualmente incolto, di metri quadri 205. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 2050 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, avanti al Gd presso il Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 7. Lotto di terreno attualmente libero di metri quadri, 530. Sito in Simeri Cricchi, Simeri Cricchi. Prezzo base, 9.010 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 8. Reliquato per frazionamento della particella 1581 di maggiore consistenza, incolto, attualmente occupato, di metri quadri 400. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 6.000 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 9. Reliquato per frazionamento della particella 1581 di maggiore consistenza, incolto, attualmente occupato, di metri quadri 240. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 3.600 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 10. Lotto di terreno attualmente occupato, di metri quadri 3.100. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 77.500 euro. Quota, piena proprietà vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, nuovo rito fallimentare numero 44 del 1989, lotto 11. Lotto di terreno libero di metri quadri 2.195. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 54.875 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Tribunale di Catanzaro, fallimento numero 44 del 1989, lotto 12. Appartamento composto da tre vani e bagno, della superficie lorda di metri quadri 42,33 e una corte destinata a giardino di metri quadri 114,73. Sito in Simeri Cricchi. Prezzo base, 28.152 euro. Quota, piena proprietà. Vendita senza incanto. 19 novembre 2014 alle ore 9.30. Luogo della vendita, Tribunale di Catanzaro. Per informazioni, chiama il numero verde, Infoaste, 800, 630, 663. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.